Attenzione, attenzione, è il finestra bagnino che ve parla, Giorgio insegnami a bailar, nell'eventualità, che io trovi quella giusta, con la busta, ma che busta, ma che, c'è posta per te, boh, comunque adesso basta se ne andiamo è finita, con voi ho chiuso, so veramente stufa 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 stufa, addo 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 mani, ciao la serie